Il Comitato Comunale del Partito Democratico di Città di Castello alla fine si è arreso. La sintesi non è riuscita, nessun nome condiviso per portare avanti il fronte unico della coalizione, almeno non senza il consenso dei cittadini. Starà proprio a loro di fatti l'ultima parola in merito alla questione candidato sindaco. Si è optato per le primarie dunque e la decisione è arrivata in seguito alla riunione di ieri, cui hanno partecipato anche il segretario regionale Lamberto Bottini e quello provinciale Andrea Rossi. Al termine dell'incontro è stato votato con 53 voti favorevoli, 4 stenuti e 2 non partecipanti al voto il seguente dispositivo proposto dalla Commissione Politica. Il PD sceglie il metodo delle primarie, avanzando un candidato in grado di unire il partito e la coalizione che la Commissione Politica si impegna a presentare all'Assemblea di venerdì. Il Comitato dei Saggi si urinerà quindi di nuovo stasera per valutare il tipo di proposta da formulare alla luce del nuovo mandato politico, nel tentativo di tenere insieme tutta la coalizione, dai socialisti alla federazione della sinistra, dall'IDV fino al SEL, cercando di superare le rigidità che hanno caratterizzato il centrosinistra in questa vicenda.